Signori e signoresse della giuria, mi hai detto tu di iniziare così e quindi io l'ho fatto. Io affermo che, io in quanto donna, 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 she, her, affermo che il maschio femminista non serve, almeno non in quella sottospecie caratteriale che si è sviluppata in Italia, con una particolare concentrazione nel nord della penisola, specialmente negli spazi altamente urbanizzati, meglio noti come città. Partirei da Sanremo. Che senso ha invitare Chiara Ferragni, per motivi almeno apparentemente nobili, se poi c'è nella stessa manifestazione culturale il monologo di Angelo Duro? Che all'interno di quello che, poveri noi, è il più importante evento culturale del nostro paese, dice che le donne devono essere amiche delle puttane. Giovanna Civitillo ride in prima fila. L'unica cosa di deep understanding del festival, a livello di femminismo, ci arriva a sorpresa dal vincitore Marco Mengoni, che nell'Italia di Giorgia Meloni non ha ancora fatto coming out. Marco ci dice che le donne si sarebbero meritate di salire sul podio. Grazie Marco. Che dire poi, questa è la mia parte preferita, che dire poi di uno dei programmi considerati più avanguardisti in Italia, avamposto della sinistra di Ellie Schlein, che pensa ancora di contare. Che tempo che fa. Condotto dal maschio femminista Fabio Fazio, che so che si fa fare i pompini da una sua assistente. Che è una mia amica. Fazio. Fazio mette la comica brutta sopra il tavolo, dicendole a più riprese durante ogni puntata di stare zitta, mentre fa il suo monologo, mentre la bella, Filippa Lagerbach, si confonde tra il pubblico. E il suo unico compito durante la puntata è quello di introdurre gli ospiti. Un compito che Fazio, che neanche Dora di Nemo, si dimentica così spesso di farle completare, sovrascrivendo i suoi fonemi ai suoi. Un applauso a Fabio Fazio. Come Fabio Fazione potrei citare altri esempi di maschi femministi inutili. Fino a Luca Guadagnino, che dice che Suspiria è un film femminista perché le donne protagoniste sono delle streghe. Secondo me ha ascoltato per sbaglio qualche puntata in più di Morgana. Qualche giorno prima di dichiararlo. Passando per un altro Luca. Luca Ravenna. Decide di invitare una comica trans ad aprire il suo spettacolo a Milano all'Arcimboldi, che supporta così tanto da non seguire neanche su Instagram. Facendosi portavoce di un peculiare, non so neanche come definirlo, attivismo cis performativo da maschio femminista. Ciao. Nella tua esperienza di vita, hai mai incontrato uomini che ti hanno, magari con cui discutevi, parlavi di cose, che ti hanno fatto dire, cazzo ma c'è speranza? No, no, no. Devo dire che no. Cioè, a parte uomini etero no, uomini gay sì. Sono del tutto loro il problema? Nel senso, secondo me è matematicamente impossibile che non ci sia un uomo a cui piace la figa, che pensi che le donne e gli uomini devono andare a pari passo. Cioè, è molto improbabile. No, lo pensa, però mi danno sempre le giustificazioni sbagliate. Cioè, tipo, la mia psicanalista è donna, voglio bene a mia mamma, la vado a trovare, ti voglio fare venire. Cioè, sembrano un post di Frida. Cioè, lo dicono ti puoi non depilare. E tu non ti sei mai sentita prevenuta a priori con tutti gli uomini? Ragazzo non è un maschio e un femministo. E fa, avete rotto il cazzo. Non siete mai contente. Se si fa gli auguri all'ottomano, non va bene. Se non si fa, non va bene. Poi, se si è femministi, non va bene. Se non si è femministi, allora si è cattivi. Cosa deve fare qui? Dove lo mettiamo? Dove andiamo a collocarlo? No, cioè, secondo me, diciamo che bisognerebbe muoversi in genere un po' nell'orizzonte della complessità. Ovviamente quello che non va bene è il dogmatismo, in genere, che comunque sono delle prese di posizioni molto fasciste. Anche quando sono fatte per sostenere cause buone, no? Apparentemente, come il femminismo, l'ecologia. Sei single? Per lei è importante. È un'informazione. Ho detto, beh, vengo a Torino che ho detto che ci sono un po' di eterosessuali, perché a Milano sono meno dei talebani femministi. Qual è il modello che tu proponi contrastante a questo qui sbagliato che vedi adesso nel nostro paese? A me, davvero, in maniera molto semplice, perché poi, sai, si parla sempre per massimi sistemi. In maniera molto semplice piacerebbe che le persone che fanno lo stesso lavoro e che sono di generi sessuali opposti fossero interessati a quello che fanno le altre. Cioè, mi sembra che davvero questa cosa sia molto manichea ancora. Non lo so, perché anche io faccio stand-up comedy, poi in realtà sono anche molto scurrile, nel senso che parlo di pompini, sessonale. Cioè, faccio anche delle battute che piacerebbero ai uomini, però, tipo, gli uomini non vengono perché sono una donna e si aspettano che io parlo di mestruazione. Cioè, per me è molto femminista andare a sentire lo spettacolo di una stand-up comedian donna perché mi piace quello che dice e invece c'è sempre questa patina di refrattarietà. Quindi una... cioè, che fossimo sinceramente interessati a quello che facciamo a vicenda. Cioè, adesso non per... per... cioè, io non ho niente contro Alice Schlein, l'ho anche votata e voglio scrivere, voglio fare la ghostwriter del suo primo libro, Lesbiche Democratiche, o Arco Balenia d'Auschwitz, sceglieremo il titolo insieme. Però, capito, c'è anche lì, non c'è una donna, adesso non voglio usare questa parola che è sbagliatissima, però easy, per non dire normale, cioè, non so come dire, capito, siamo passati da Bersani alla leader lesbica di origini ebraiche, cioè, nel senso che c'è una grande difficoltà nell'accettare la donna normale, lo so che è una cosa brutta da dire. Ma di cose brutte stasera possiamo dire cose brutte, dai. Però, capito, cioè, si va sempre da un estremo all'altro, come anche sul palco dell'Ariston, c'è Drusilla, no? Che comunque è la donna... No, è un uomo vestito da donna. Sì, è un uomo vestito da donna, capito? Cioè, non c'è una comica normale, che magari non è né bella né brutta. Non è una vittima. È sempre tutto enfatizzato, ecco, e secondo me questo non porta al dialogo, perché comunque, cioè, il mondo non è drug race, nel senso che è un programma bellissimo, però, capito, cioè, c'è drug race e non c'è una comica giovane, cioè, non so come dire, mi sembra tutto così estremizzato. Quindi io credo che dovremmo essere un po' più democristiali anche nella rappresentazione mainstream. Cioè, che va bene quello, però, capito, c'è Filippa Lagerbach e la Letizze, cioè, c'è una roba di mezzo, non so, tra Hilary Blasi e Sylvia Plath. Nessuno davvero è fan della forma, cioè, io sono fan del modo in cui sono scritti i libri, non sono fan delle persone, non so come dire. Invece qui sono tutti fan delle persone, non delle cose che fanno, quindi è davvero una cosa molto di destra questa, perché è un mito della persona applicato a un ambito in cui non ci dovrebbe essere il mito della persona, cioè l'arte, perché dovrebbe essere un ambito libero. Cioè, dovremmo spostarci dal contenuto alla forma, ecco, io penso sia un po' questo il compito dell'arte. Sì, adesso puoi andare a bene. Sì, adesso puoi andare a bene.